La pagina di storia che vi voglio raccontare su Firenze e la carestia del 1328 si svolse principalmente sotto la loggia del grano nel cuore della città, la loggia di Orsanmichele. Parlare di fame e carestie, almeno fino a qualche tempo fa, sembrava un tema storico lontano dalla nostra vita di tutti i giorni. Noi che viviamo in un continente in cui le principali cause di mortalità sono legate a malattie non trasmissibili, malattie cardiovascolari, tumori, diabete, eccetera. Tanto che a peste, fame et bello, libera nos domine ci sembrava un retaggio di tempi remoti. La diffusione della pandemia da coronavirus che stiamo ancora sperimentando ha cambiato la nostra percezione. Tanto che abbiamo visto in questi giorni le file alle mense della Caritas, del Banco Alimentare o il diffondersi di altre forme di solidarietà come la spesa sospesa. In passato, di fronte alle carestie, venivano realizzate politiche annonarie come ad esempio l'iccetta di materie prime, forme adottate per calmerare i prezzi o in altri casi, come a Firenze, la magistratura dell'abbondanza fissava il prezzo del pane e il peso del pane che poteva variare quando il prezzo del grano saliva e allora allo stesso prezzo si vendeva un pane un po' più piccolo. Bene, la pagina di storia di cui vi voglio parlare è quella relativa alla carestia a Firenze del 1328. Sappiamo che tra la fine del 200 e l'inizio del 300 Firenze, la Toscana e l'Italia vissero alcune carestie particolarmente importanti senza contare che la Great Famine del nord Europa del 1316. Questa carestia del 1328 ci è raccontata in modo molto dettagliato da due fonti di grande interesse. Una è il libro del Biadaiolo di Domenico Lenzi l'altra è la cronaca di Giovanni Villani. Vi dirò che il libro di Domenico Lenzi è un resiconto quotidiano dell'andamento dei prezzi del grano tra il 1320 e il 1335 corredato anche da figure in cui l'autore mostrava ad esempio come in questo caso l'accoglienza dei poveri da parte della città di Firenze. Potremmo domandarci ma che senso ha scrivere un libro in cui viene riportato prevalentemente l'andamento dei prezzi? E perché intitolarlo come lo intitolò originariamente l'autore specchio umano? Perché la disponibilità di generi alimentari e il loro giusto prezzo era specchio di umanità era indice di una città ben governata. Ma una più articolata e interessante descrizione di questa carestia ci viene, come dicevo, da Giovanni Villani nella sua cronaca. Vi dirò soltanto alcuni dati per contestualizzare questo episodio. Firenze sappiamo che aveva 100.000 abitanti. Da Domenico Lenzi e Giovanni Villani sappiamo che annualmente veniva venduto a Firenze circa 51.500 moggia annue di grano. Il moggio equivaleva a 24 staia. Sono misure di capacità di aridi. Se noi riportiamo quella cifra di 51.500 moggia annue di grano a misura di peso, otteniamo una cifra di 220.000 quintali annui. 100.000 abitanti, dunque 2 quintali e 2 di grano a testa per ogni anno, ovvero circa 18 kg al mese pro capite. Questo era, grosso modo, la circolazione e il fabbisogno di grano a Firenze al tempo. Teniamo anche conto che questo fabbisogno era soddisfatto in parte dalle produzioni del contato fiorentino, ma per circa il 60%, poco meno, si ricorreva al mercato del grano proveniente dalla penisola. Bene, prendiamo allora questa pagina di Giovanni Villani che inizia il suo racconto dandoci i dati dello sbalzo dei prezzi in quel periodo. Dall'anno 1328 al giugno del 1329 il prezzo dello staio di grano, uno staio 24 litri, circa 18 chili, era passato da 17 soldi a 65 soldi lo staio, cioè un fiorino che al tempo equivaleva a 65 soldi. E commenta, spiega Giovanni Villani Villani cioè mette in evidenza che questa carestia fu determinata in modo particolare da una forma di speculazione. cresce la domanda da parte della gente ricca che aveva disponibilità di denaro forse sotto la pressione di una paura perché all'inizio dell'annata sembrava che la produzione fosse minore e la memoria delle passate carestie spinge la gente che aveva disponibilità di denaro a fare a acquistare grano e così il prezzo sale, 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 cresce da 17 soldi a 65 soldi determinando così gravi conseguenze per la gente povera. Il comune di Firenze che cosa fece? Con savio consiglio e buona provvedenza ci racconta Villani riguardando alla pietà di Dio ciò non sofferse ma quasi gran parte dei poveri di Toscana mendicanti sostenne ma che cosa fece? Fornì di grossa quantità di moneta la canova e mandò a comprare a titolo del comune grano dalla Sicilia che fu fatto arrivare a Firenze dal porto di Talamone e non guardando al grave costo sempre che era la grave carestia il comune tenne a mezzo fiorino d'oro l'ostaio cioè 32 soldi il prezzo del grano anche se mischiato con l'orso e prosegue ancora Giovanni Villani informandoci che il comune di Firenze in quegli anni perse più di 60.000 fiorini d'oro per sostenere il popolo ma prosegue e qui è la mossa di grande interesse e tutto questo era niente se non che infine si provvide per gli ufficiali del comune di non vendere grano in piazza a staia 24 litri 18 chili a 32 soldi ma di fare pane per lo comune a tutti i forni e poi ogni mattina si vendea in 3 o 4 canove per sesto di peso d'once 6 circa due ette e mezzo il pane mischiato per danari 4 l'uno cioè questo grano acquistato dal comune anziché essere messo in vendita al mercato di Orsanmichele a staia 32 soldi 18 chili veniva mandato a spese del comune ai forni per fare dei pani di due etti e venti che venivano poi venduti al prezzo di 4 denari l'uno 4 denari sono un terzo di soldo questo argomento dice Villani sostenne e contentò la furia del popolo e della povera gente che almeno perché almeno ecco l'argomento ciascuno poteva avere pane per vivere e tale aveva denari 8 12 per sua vita il dì che non poteva raunare i denari di comperare lo staio cioè anche chi ogni giorno guadagnava una somma bassissima 4 8 o 12 denari aveva la possibilità di comprare a 4 denari dei pani anche coloro che non avrebbero potuto mettere da parte i soldi necessari 32 soldi per acquistare uno staio e poi mandare e poi pagare le spese del fornaio per fare il pane e tutto che io scrittore non fossi degno di tanto ufficio per lo nostro comune mi trovai ufficiale con altri a questo amaro tempo e con la grazia di Dio sono ancora parole di Villani fummo dei trovatori quasi dei poeti della politica di questo rimedio e argomento onde si appasciò il popolo e fuggì la furia e si contentò la povera gente senza nieno scandalo o rumore di popolo e di città avemo fattosi lungo parlare sopra questa materia per dare esempio a nostri cittadini che verranno da avere argomento e riparo quando in così paricolosa carestia incorresse la nostra città a ciò che si salvi il popolo al piacere e reverenza di Dio e la città non incorra in pericolo di furore o rubellazione allora due mosse documentate dalla semantica di questo indiadi e una implicazione rimedio è l'iniziativa che il comune prende di mandare a comprare il grano e poi di far fare i pani da mettere in vendita a un prezzo contenuto ma questo non è solo rimedio concreto una risposta adeguata ma è anche una risposta adeguata ed efficace perché comprensibile tangibile è argomento per soddisfare al bisogno della gente per questo è questa ragionevolezza politica questa cura della comunicazione politica che Villani dà come esempio allora da questa narrazione possiamo forse imparare qualcosa da questa pagina di storia non basta dare risposte concrete e giuste bisogna che queste risposte siano comprese dalla gente e che siano anche tangibili arrivino fino alla tasca mettendo in comune la tasca di coloro che possono dare con la tasca di coloro che hanno bisogno e sono sostenuti da forme di solidarietà pubblica o privata grazie per l'attenzione grazie 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 a tutti.